Ciao ragazzi e bentornati sul canale, oggi terminiamo la nostra divisione in fasce con gli attaccanti Ma prima, oltre ai soliti avvisi, vi dico già che parleremo in questo video del nostro fantacalcio con gli iscritti Sarà un fantallistone proprio adesso, ve lo spiegherò tra due secondi Ma prima, come sempre, vi invito a lasciare un mi piace, che è un metodo totalmente gratuito per supportare il canale E gratis, vi invito assolutamente a farlo Altra cosa gratis, l'iscrizione non costa nulla, ma non fatela per me, fatela per voi Perché vi serve per rimanere costantemente aggiornati su tutto il mondo del fantacalcio Su tutti i migliori consigli che potrete trovare all'interno di questo canale Vi ricordo anche poi di scaricare l'app OneFootball, la miglior app per rimanere aggiornati su tutto il mondo del calcio e di conseguenza del fantacalcio Al suo interno infatti si trovano partite, gli highlights, le conferenze stampa, le interviste, le curiosità Tutto ciò che serve ad un fantaleatore per rimanere costantemente aggiornato sul suo gioco preferito Ma non è tutto, perché possiamo inserire i nostri giocatori al fantacalcio nella lista dei preferiti E in questo modo saremo costantemente aggiornati su di loro Trovate il link per scaricare l'app gratuitamente in descrizione Adesso arriva anche il momento per il fantacalcio con gli iscritti Giocheremo ragazzi su Fanta Club Avrete 250 crediti, un fantalistone con 50 cambi stagionali da gestire a vostro piacimento Ci sarà un primo premio che come lo scorso anno sarà un trofeo La partecipazione è gratuita, per entrare nella Lega basta scaricare l'app Fanta Club Registrarsi e cercare tra le leghe pubbliche la Lega che si chiama Fantavirus E a quel punto potrete tranquillamente unirvi alla Lega Per qualsiasi info trovate il gruppo Telegram riservato agli iscritti Potendo entrare e chiedere il regolamento o altre info generali su questo fantacalcio Poi vi ricordo anche che fate ancora in tempo a partecipare al fantalistone riservato agli abbonati Che avrà come primo premio una maglia originale di una squadra di serie A a scelta del vincitore Basta l'abbonamento anche di livello più basso da 1,99€ per partecipare Ma adesso ragazzi basta con le chiacchiere perché abbiamo parlato troppo Eccolo qui il nostro file Excel Abbiamo tante categorie Abbiamo il super top, il top, il semi top, la terza fascia, la quarta fascia Le scommesse, la quinta fascia, le riserve e poi i casi particolari Anche qui troviamo il budget, quanto spendere, prima dei nomi Troviamo qui le percentuali Partiamo infatti dal super top, 34-38% Credo che questo è il prezzo del super top Sono tre quest'anno, Immobile, Blaovic e Lukaku Tre attaccanti che mi danno garanzie, garanzia dei 20 gol stagionali Sono anche tre rigoristi, tre rigoristi molto molto bravi E per me sono loro i migliori tre attaccanti del prossimo fantacalcio L'unico fattore su cui dobbiamo stare attenti sul super top è il prezzo Infatti per me il 34, 35, anche 36% un prezzo giusto 38% inizia a essere anche un prezzo un po' altino 40% ve lo sconsiglio a quel punto Se dovessero confermarsi i prezzi che ho stabilito per i top Top quindi che potrebbero andare tra il 24 e il 34% Mettiamo un 32% di media Io preferirei un top al 32% e non un super top al 40% Perché comunque prendere il super top al 40% Sicuramente non lo andiamo ad accompagnare in modo decente E di un super top senza un attacco decente alle sue spalle Non ce ne facciamo nulla Top abbiamo spoilerato quella che è la fascia di prezzo 24% 34% Abbiamo Osimen, Abram, Lautaro e Zapata Allora, cosa dire su di loro? Osimen e Abram saranno due rigoristi Due attaccanti che vedo molto bene per questa stagione Vedo bene anche Zapata Anche lui dovrebbe essere rigorista a mio modo di vedere le cose dell'Atalanta Lo scorso anno ha calciato lui con Muriel in campo In più è l'attaccante preferito di Gasperini Per cui non ci sono dubbi sulla titolarità Se non ha problemi visici Zapata è uno che segna e sa segnare Anzi, ha anche probabilità di segnare di più rispetto a Lautaro Martinez E compagnia di questa fascia Se sta bene Lautaro è invece il giocatore un po' più particolare Perché l'anno scorso era collocato probabilmente un po' più in alto All'interno delle nostre fasce E quest'anno scende Scende fra i top perché arriva Lukaku che li soffia i rigori Ok che lo scorso anno li ha anche sbagliati Lautaro e i rigori e per questo non è un male Però quest'anno dico con un attaccante da 15-18 gol Come appunto Osimena Abram Zapata Per me sono attaccanti i top di questa fascia Che fanno 15 gol almeno Poi potrebbero avvicinarsi anche ai 20 E perché no, se la stagione è buona li possono anche superare Andiamo ai semi top Fascia di spesa 12-24% Vi ricordo ancora una volta che quando parliamo di budget L'argomento è molto molto relativo Varia tra le leghe Quindi argomento particolare Berardi, Leao, Dybala, Giroud Praticamente sono loro i semi top Sono i migliori secondi slot Attenzione perché uno di questi In un Fanta ad 8 è un primo slot E tre di questi in un Fanta a 10 sono primi slot Se dobbiamo scegliere uno per un Fanta a 8 Io andrei a fare il nome di Berardi Che probabilmente fra i semi top dovrebbe anche essere il più pagato A meno che non troviamo qualche romanista o milanista sfegalato Che vorrà strapagare Dybala, Leao o Giroud In questa fascia è lui il più costoso Ma è un attaccante che garantisce la doppia 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 cifra di gol, doppia cifra di assist Leao riparte proprio da quella doppia doppia Anche lui, doppia cifra di gol e doppia cifra di assist raggiunta all'ultima giornata E per me questi numeri per lui sono assolutamente ripetibili Anzi migliorabili perché deve continuare a crescere Poi c'è Paolo Dybala da vedere la questione rigori Per me non dovrebbe essere il rigorista Ma è un attaccante che alla Roma può far la differenza Attaccante da cui non mi aspetto in questo caso la doppia doppia Per cui un gradino sotto a Berardi e Leao Poi troviamo Oliver Giroud che piazzerei forse anche un gradino sopra Anche lui ha Paolo Dybala Perché è un attaccante che la doppia cifra la garantisce Pur non giocando tutte le partite E lo sappiamo, non ce le giocherà tutte le partite Anche perché il Milan fino a novembre gioca praticamente ogni tre giorni Cosa vuol dire? Che sicuramente ci sarà tanto turnover Per cui giocheranno sia Origi che Giroud Quando saranno entrambi i sani I due sostanzialmente si alterneranno Però dieci gol li garantisce Consideriamo che sarà il rigorista principale della squadra Per cui almeno un 3-4 gol in più a quella doppia cifra li può portare Però attualmente non vi dico che un attaccante da 15 gol Ma da doppia cifra sì Andiamo alla terza fascia dove troviamo attaccanti da pagare Al di sotto del 10% del budget Un bel mix di giocatori Troviamo Origi Che come abbiamo detto è un attaccante che giocherà tanto quest'anno Vi invita a non sottovalutarlo E secondo me lo riusciamo a prendere anche al di sotto del 10% del budget E se lo prendiamo una 30-40 crediti su 500 Rischiamo anche di farla fare perché giocherà tanto nel Milan E per me i 10 gol li può fare Muriel è il caso più particolare di tutti in questo momento Più di una terza fascia Ovvero di un terzo secondo slot In base poi al numero dei partecipanti della Lega Non lo riesco a piazzare Purtroppo ha fatto molto male la passata stagione Però è un giocatore strano Un giocatore che potrebbe anche riscattarsi totalmente Un giocatore che potrebbe fare benissimo due gol Ma anche 15 Quindi un giocatore quasi sorpresa Un giocatore che se va troppo tenderei ad evitare Sempre in terza fascia troviamo una serie di prime punte Di media classifica come Arnautovic, Beto, Caputo, Raspadori, Destro, Caprari, Deolofeu, Sanabria Allora, sono tutti nomi interessanti e intriganti per questa stagione La maggior parte sono prime punte Forse ad eccezione di Caprari, Deolofeu e forse anche Raspadori La situazione per loro è la seguente Sono tutti attaccanti che per me i 10 gol li possono fare Quindi potenzialmente in una Lega 8 Sono tutti terzi slot perfetti Occhio magari a qualche movimento di mercato Perché di Raspadori se ne sta parlando in ottica calcio-mercato Onestamente io per il Fanta Spero resti alzassuolo Perché può confermarsi e può migliorare i numeri della passata stagione Su questi nomi onestamente avrei poco da dire Tra Arnautovic, Beto, Caputo, Destro, Caprari, Deolofeu, Sanabria Perché in parte ne ho già parlato Quindi se avete visto i video sapete cosa penso di loro Sono tutti nomi intriganti Giocatori che per me possono fare 10 gol Quindi non mi soffermerei più di tanto Quarta fascia Abbassiamo il livello del prezzo Dobbiamo rimanere sotto il 7% del budget Non sono questi i terzi slot Forza d'eccezione di due nomi Jovic e Cabral Sono però downgredati in quarta fascia Perché ne giocherà solo uno di loro con costanza O si spera che ne giochi solo uno di loro Si trovano in questa fascia entrambi Perché dobbiamo rientrare nella stessa fascia di prezzo Diciamo della terza fascia Per prenderli in coppia Assicurarci il titolare della Fiorentina Però dobbiamo pagarli entrambi insieme Meno del 10% del budget Se sforiamo a quel punto Il consiglio di lasciar stare Per questa quarta fascia In modo da ricordarci Di mantenerci sotto il 7% del budget Ma comunque attenzione Perché i due possono far bene Due attaccanti che piacciono A Vincenzo Italiano E anzi Visto che so che me lo chiederete Jovic o Cabral Solo uno Possiamo puntare su Jovic Completano questa lista Di Maria Purtroppo listata attaccante Per fantacalcio.it Quindi perde un po' di appetibilità Fantacalcistica Garantisce la doppia cifra? No Ma può portare la doppia cifra di assist Quindi 5 gol dice assist Sono alla portata Quarta attaccante Da mettere all'occorrenza Che può far bene Così come verde Rigorista dello Spezia Barrow Che non viene dalla sua miglior stagione Ma comunque un quarto slot Per il fantacalcio Bonazzoli Che finalmente è tornato Alla Salernitana Dovrebbe anche essere rigorista Enrique Se parte Simeone La prima punta Del Verona E Lozano Che in questo momento Nel Napoli Parte avanti nelle gerarchie Parte da titolare Ed è un giocatore Che sappiamo bene Vede la porta Poi andiamo alla fascia Delle scommesse L'invito è di restare sotto Il 2% del budget Troviamo Satriana Attaccante dell'Empoli Che per come è composta La rosa attuale dell'Empoli Se Zanetti decide Di giocare con I due attaccanti Lui gioca da titolare E potrebbe fare lo stesso percorso Di Pinamonti Lo scorso anno Colombo E C6 De Lecce Due scommesse Entrambe nella stessa squadra I due un po' si alterneranno Sono due prospetti Interessanti In ottica fantacalcio Non mi aspetta onestamente Un ex qua totale Da parte di uno dei due Ma Insieme I due Un 14 gol Li possono fare Quindi 7-7 Assolutamente Ci sta Poi c'è Kevin Lasagna Scommessa inaspettata Un po' forse anche Dell'ultimo secondo Perché nelle amichevoli Sta giocando Sta facendo molto bene E partito Caprari Partirà probabilmente Anche Simeone E in questo momento Le possibilità di giocare Ci sono Ed è un giocatore Che può Giocare bene In Serie A E può Prendere il posto Di Caprari Anche perché La coppia Lasagna Henry può essere Una coppia Ben assortita A livello calcistico Per il Verona Un attaccante Molto più fisico E fermo Con un attaccante Molto più veloce Come Kevin Lasagna Piccoli Che anche lui Gioca nel Verona Scommessa intrigante Perché comunque Nelle giovanili Lui ha sempre Segnato Con continuità La passata stagione Non è riuscita Ad incidere nel Genoa Vediamo se riuscirà A riscattarsi Poi troviamo Sussex Che se parte D'Olofeu Si prende il posto Da titolare Nell'Udinese Non è un attaccante Da doppia cifra Ma un attaccante Da 4 gol 5 gol Al massimo Con 7 8 assist Ma comunque Mello di niente Come potenziale Scommessa Se parte D'Olofeu E Pietro Pellegri La scommessa Forse ha più Ad alto rischio Di tutte queste La scommessa Che forse Mi convince un po' Meno Perché Sanabria Come titolare Mi convince tanto Nel Toro Poi troviamo La quinta fascia Quinti slot Per completare Il reparto Giocatori anche qui Da pagare sotto Il 2% del budget Ma molti di questi Andranno all'1% Sono comunque attaccanti Che non dico Garantiscono sempre La titolarità Perché magari Qualcuno Si è titolarissimo Gli altri Sono più dei gioli Troviamo Zola Pedro Correa Okereche Zanimacchia Danimota Rebic Gabbiadini Riberidi Di Carmine E di Francesco Poi troviamo Le riserve Ad un credito Una serie lunga In fine di nomi Che vi risparmio Da leggere Ma tolte alcune di queste Come ad esempio Può essere un Dzeko Che se prendiamo Lukaku A senso prender Come coppia Gli altri tenderei Ad evitarli Casi particolari Punto interrogativo A livello di prezzo Ci sono diversi nomi Simeone Pinamonti Petagna Ilici Shomurd Unas Tutti i nomi Concentrati nel calcio Mercato Qualcuno potrebbe andare All'estero come Simeone E lasciare quindi Il nostro campionato Degli altri Si parla in ottica Asseria Di Pinamonti Si è parlato di Salernitana Di Sassuolo Di Atalanta Se cambia squadra Se parte dall'Inter E va a fare il titolare A qualche parte Sicuramente Un attaccante Da doppia cifra Stesso discorso Per Petagna Se parte dal Napoli Va al Monza Per me è da doppia cifra Ilicic Si è parlato di lui In ottica calcio Mercato di Bologna Così come si è parlato Di Shomurd Sempre nel Bologna E poi c'è Unas Che potrebbe partire E rimanere in serie A E ha numeri buoni Quindi in questo caso Per gli attaccanti Casi particolari Sono nomi da monitorare Beh ragazzi Il video finisce qui Vi ricordo Potete scaricare il file Dal link che trovate In descrizione Vi invito anche A lasciare un mi piace al video Se ancora non l'avete fatto Se non siete iscritti Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video